Salve a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con il TG Meteo Weekend. Vediamo insieme le previsioni del tempo per questo fine settimana. Una perturbazione di origine atlantica porterà instabilità soprattutto nella giornata di sabato. Il tempo tenderà a migliorare invece domenica. Vediamo con l'aiuto della grafica i dettagli. Sabato al mattino schiarite anche ampie nelle regioni di nord-ovest, settore tirrenico, basso adriatico e zone ioniche. Altrove nuvolosità variabile con la possibilità di qualche goccia di pioggia nelle zone interne appenniniche di Romagna e Marche. Nel pomeriggio maggior rischio di pioggia e temporali su est Lombardia, Trentino Alto Adige, Alto Veneto con possibili sconfinamenti verso le pianure adiacenti. Al centro-sud pioggia e temporali nelle zone interne di Toscana, Umbria, sud delle Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Appennino Campano, Basilicata e centro-nord della Puglia. In serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi ad eccezione del settore del medio e basso adriatico dove potrà ancora cadere qualche debole pioggia, temperature in lieve diminuzione al nord-est e zone interne del centro. Si conferma per domenica un generale miglioramento, con tempo complessivamente più stabile e abbastanza soleggiato, salvo qualche acquazione pomeridiano nelle zone interne del basso Lazio e su Basilicata e Calabria. Temperature senza grandi variazioni. All'inizio della settimana l'Italia non sarà completamente protetta dall'alta pressione, ma parzialmente esposta a un flusso di correnti nord-occidentali che potranno determinare qualche passaggio nuvoloso con eventuali fenomeni di instabilità, confinati alle zone affine e alle regioni del nord-est. A partire da metà settimana sembra probabile una rimonta dell'alta pressione che dovrebbe farsi più decisa, in particolare al centro-sud, dove sarà accompagnata da aria via via sempre più calda di origine africana. E per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi l'appuntamento e alla prossima edizione.